Sindaco, situazione a Francavila per quanto riguarda le emissioni, c'è qualche preoccupazione perché negli ultimi giorni l'Arta ha rilevato emissioni oltre i limiti. Nonostante noi stiamo attuando una politica che va verso la mobilità sostenibile, che va verso la chiusura, il traffico di alcune zone con la pedonalizzazione, purtroppo bisogna che i cittadini prendano coscienza di questo problema perché a tutti noi piace fare le battaglie sul mondo pulito, sull'area pulita, vorremmo che tutto fosse a posto, ma in verità sono i nostri comportamenti, i comportamenti dei singoli che generano questo tipo di problema. Allora bisogna capire che magari utilizzare un'autovittura inquinante per spostarsi da solo per poche centinaia di metri è una cosa da evitare per rispettare l'ambiente. Quasi in queste occasioni rimpiangiamo quel periodo del lockdown, lo dico ovviamente come forzatura perché in quel periodo si respirava un'aria pulitissima, il mare era limpido perché ahimè l'uomo non inquinava l'ambiente attorno a sé o lo inquinava in maniera moderata. Oggi purtroppo ci scontriamo con questo grande problema che è un tema ambientale importantissimo, Francavilla permette la mobilità sostenibile, Francavilla permette di spostarsi in bicicletta da due anni, da quattro anni fino a cento anni e quindi io invito sempre più la mia comunità a pensare a metodi di spostamento alternativo. In prospettiva anche in vista delle prossime settimane state pensando di adottare qualche provvedimento particolare se la situazione dovesse restare questa? Ovviamente stiamo monitorando e nel caso in cui dovesse aggravarsi questa situazione non è escluso che passeremo a provvedimenti più drastici di chiusura al traffico di alcuni tratti.